Allora a tutti i micini, io sono Valentina e si con questi capelli sembro un balboncino e vai! E niente ragazzi, piuttosto vado dal parrucchiere e mi faccio resare i capelli a zero perché così così sto meglio E vabbè niente, oggi faremo un nuovissimo versus e questo versus chiamerà me versus di altri d'estate Spero vi piace, iniziamo con il video Buongiorno Ma non ci vedo, è meglio dare una sistematina Adesso andiamo a fare qualche foto su Instagram Ma cos'è un yeti? Boh sarà un filtro di Instagram No, boh sarà rotto Andiamo sulla foto che mi era normale Ma cos'è? Oddio ma sono veramente io Che brutta Ah e lui mi sta telefonando Ciao amore Ti amo Io di più 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 Ok si è ragione Ci sentiamo dopo Mi stai chiedendo sul ragazzo? Ma che domanda sciocca E' ovvio che ce l'ho C'è Dai su vieni Dai vieni E' un po' timido Dai vieni Sentiti ragazzi, non si vuole far vedere Ok andiamo a rivedere Che brutta che sono Meglio farne altre Ok forse non era il caso Che aspetta molti messaggi Wow Più di 100 messaggi della classe 45 messaggi della mia amica Wow E' bello sentersi speciale Hai visto? Ah ah si si sono mio agio Aiutatemi Nera come la tua schiena Vestita da sera Sciogliti i capelli Poi balla un po' Ok ragazzi Dovrei essere tipo intonata Nell'aspettativa però Ehm No Anzi Arianna Grande spostati Che qua c'è Valentino Livieni Che viene a cantare Ehm Per tutti voi Ok no ragazzi Io faccio veramente schifo a cantare Yeah Ma tutto questo Mi fa volare Non è uno scherzo Mi fa volare Mi fa volare La 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 Non ero io No Quest'estate mangerò solamente frutta Perché ci sarà poi la prova costume E io devo essere perfetta Ma aspetta C'è chi ha fatto anche La dieta a base di aria Ma si La faccio anch'io Ho furia di farli cadere Perché non è la prima volta che Li faccio cadere Ehm Si sono un po' ammaccati Quindi Mi toccherà per forza mangiarlo Yeah Wow Non mi vedrà mai nessuno Buongiorno Eh questi No Questi li stavo mettendo a posto Non li stavo portando mica in camera mia No no Ehm Allora questi qua Sono i cereali colorati Per la bellezza Non perché dentro hanno frutta E quant'altro Sì 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 Vado a sto per mettere a posto Sig Cosa mi hanno sgamata E volevo dire Non mi hanno sgamata Volevo dire Ehm Perché questo Beh perché Ehm Puzzavano un po' le mie scelle Quindi le ho dovute profumare Non perché volessi far chiedere agli altri Che io abbia sudato Perché ho fatto tante ore di ginnastica No no Cosa vuoi? Ma lo sai che la mia amica C'ha 500 libri da completare Enzo settembre? Ah proviamo i compiti Vado a vedere quanti ne ho Quest'estate Credo tanti Ma sono solo 25 pagine Oh mio dio Ma questo lo finisco in 5 minuti Ma sì Vado a vedere quanti compiti ho Per quest'estate Diciamo che sono pochi Ah Mi sa che si è rotto qualcosa Ah Ti ho amato in ospedale Ah Mi stavo ammazzando davvero Anzi Le mie povere ginocchia Stanno soffrendo Quindi posiamo questi libri Ah aiuto Guardate le mie nuove scarpe Alte più di 10 cm C'è Chiara Ferragni Levati Volete vedere le mie giabatte Da fashion blogger Beh Me l'avete chiesto voi Fashion blogger Bruccia Maia Perché non ho messo La crema solare Ah Estate 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 No scuola Tre mesi di vacanza E poi Aspetta Sto dimenticando qualcosa Non mi viene in mente Gli esami Spero che questo video vi sia piaciuto Vi prego di iscrivervi E vi ricordo di attivare la campanella Per non perdervi nessun altro mio video Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.